Ethereum, 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 bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il 12 di aprile arriva il nuovo aggiornamento per quanto riguarda Ethereum, quello che conclude un po' il passaggio al proof of stake, l'aggiornamento Shanghai Capeia che in sostanza va a completare quello che era stato un meccanismo iniziato a settembre scorso. La domanda un po' che tutti si stanno facendo in questo momento è cosa farà Ethereum dopo questo aggiornamento, quali sono i rischi che tutti quelli che avevano gli ETH in stake lì tolgono dallo stake e iniziano a sellare creando una pressione di vendita sul prezzo di Ethereum, la regina dell'ecritto e facendola crollare. E' possibile una cosa del genere? Quanta probabilità c'è? Quali sono i dati? E andiamo a fare un'analisi iper importante ragazzi su due orizzonti temporali differenti e anche su due categorie di analisi differenti, quindi prima andremo ad analizzare quelli che sono i dati di natura fondamentale e gli orizzonti medio-lungo periodo, poi andiamo ad analizzare quelli che sono i dati invece di natura medio-breo periodo e quindi l'analisi del grafico. Ci sono dei valori, delle questioni molto importanti da andare ad analizzare secondo me per comprendere bene quello che potrebbe succedere 12 aprile la prossima settimana. Nel frattempo oggi lancio una moneta, lo facciamo con Ethereum ragazzi perché io ho anche la moneta di Ethereum ma per la verità non l'ho comprata ma me l'avete regalata per Natale, un utente dell'Academy me l'ha regalata per Natale. E non è uscita proprio un bel lancio anche se la moneta di Ethereum. Va bene ragazzi allora detto questo per il video di oggi vi ho preparato quelle che sono delle slide per analizzare un po' tutto quello che c'è da vedere perché è un video stra stra importante. Ho fatto una serie di analisi molto rilevanti quindi andremo a vederli insieme perciò lasciatemi un like, datemi una mano, sono due giorni che lavoro su questo video e scrivo slide e ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Partiamo subito da questa questione ragazzi. Allora Ethereum Shanghai Capella upgrade, che cosa succederà ad Ethereum dopo l'aggiornamento a Shanghai ragazzi? Sostanzialmente quello che succede è che si possono togliere gli ETH in stake e quindi venderli. Ma questo tipo di logica ha creato una serie di un po' paure all'interno del mercato cripto della possibilità che Ethereum venga sellato. Questa cosa però un po' forse è un'esagerazione perché ci sono alcuni dati di natura fondamentale che ci indicano che sostanzialmente tutto questo a paura ha una importanza molto bassa in termini di percentuali sulla capitalizzazione di Ethereum. Quindi ragioniamo appunto come vi dicevo su due livelli andiamo a fare in prima istanza un'analisi di natura medio-lungo e quindi sui dati fondamentali, grafici fondamentali, quelli on-chain eccetera e poi andiamo ad analizzare invece nel medio-breve il lato grafico un po', unire le due visioni, ci dà un quadro completo di quello che è la situazione di Ethereum e quello che potrebbe succedere il 12 e vi dirò anche verso la fine del video c'è anche un'opportunità che si può andare a verificare proprio in questi ambiti di natura da trading proprio nella prossima settimana, opportunità che non è secondo me da sottovalutare. Analisi fondamentale, portiamo punto numero 1, lo stake di Ethereum corrisponde solo al 15% ragazzi del totale della sua capitalizzazione. Cioè Ethereum è vero che è stato messo in stake però è una percentuale molto bassa lo stake di Ethereum in rapporto a quella che è la sua totale capitalizzazione, cioè il numero di Ethereum circolanti. Quindi questo io me lo spiego in una maniera molto logica, cioè il problema dovuto al fatto che gli Ethereum stake erano bloccati ha anche indotto molti a non fare stake di Ethereum e poi c'è anche un altro problema insomma legato al rendimento ma di quello poi ne parliamo. Ma in sostanza questo dato ci indica un valore abbastanza basso che comunque andare a ragionare questo tipo di impatto anche volendo togliere tutto quello che era lo stake di Ethereum, cosa assolutamente impossibile, sarebbe comunque una selling pressure non eccessiva ragazzi perché il 15% del totale non è una percentuale molto alta e soprattutto non potrà essere unsteccato così velocemente se è comunque tutto molto pilotato e moltissimi ragazzi ovviamente non lo faranno, andremo a vedere anche altri dati. Quindi primo punto da analisi fondamentale ci dice che lo stake di Ethereum corrisponde solo al 15% del totale quindi non c'è una grande paura da questo punto di vista. Poi c'è un altro dato, il totale dello stake quindi è molto basso e su altre chain è molto più alto. Quindi anche in rapporto a quelle che sono le altre chain che hanno lo stesso proof of stake ragazzi ci rendiamo conto che il totale dello stake su ETH non è molto rilevante. Questo ha un impatto che insomma ragazzi potete anche immaginare cioè in sostanza cioè se andiamo a vedere Cartano per esempio il 66-67% lo stake Solana vabbè insomma ha subito quello che ha subito comunque il 73% BNB che secondo me è quella che un po' di più va guardata in questo caso il 15 quindi molto simile ad Ethereum ma anche Avalanche eccetera insomma la stessa Polygon. Insomma molto delle altre chain alcune che sono anche top chain hanno comunque molti più token e crypto in stake coin in stake e questo ci dice anche che quel dato che noi stiamo vedendo su Ethereum non è un dato bilanciato in termini di mercato. Ethereum ne ha pochi punto cioè ok ne ha uguali a BNB però sostanzialmente noi quando guardiamo un dato dobbiamo sempre comprendere il benchmark no quindi la media di riferimento nella media di riferimento Ethereum ha pochi ETH in stake. Altro punto fondamentale ragazzi molti staker non sono assolutamente in profitto perché hanno messo in stake Ethereum prima del crash del bear market 2022 ci sono trovati in questo caso ad avere un valore in Ethereum anche insomma in dollari anche molto basso ragazzi perché parliamo che il 70% degli staker di ETH hanno in pratica un valore al di sotto del loro livello di acquisto. Ora qui si tratta poi di fare un ragionamento di finanza comportamentale perché ok questo dato cosa significa? Significa questo qui ragazzi cioè conviene uscire da un asset in perdita quando lo stesso asset ha un trend di breve e medio al rialzo. Cioè questa è la domanda e qui interviene la psicologia del trading la psicologia dell'investimento il mindset la finanza comportamentale in generale chi decide di chiudere la propria posizione aperta anni fa su una cripto su un asset che è stato bloccato e quando viene sbloccato è in perdita ma ha comunque un trend di mercato rialzista nel medio breve periodo. Questa è la domanda che dovete farvi chi prende una decisione del genere in termini di finanza comportamentale sostanzialmente nessuno tranne chi ha bisogno di liquidità quindi chi ha una necessità di avere liquidità oppure chi ha delle informazioni underground inside che sa che magari quella cripto sa per crashare e quindi magari se questo pump di Ethereum questo rialzo da novembre è stato pilotato da qualcuno quindi solo in condizioni di uomo con la maschera di nuovo noi abbiamo una finanza comportamentale che ci dice attenzione se l'impression aumenterà perché in tutti gli altri casi cioè quelli normali che sostanzialmente coprono il 90% delle ipotesi è difficile che l'investitore che ha messo il stake e TH lo vada a vendere in perdita semplicemente perché glielo hanno sbloccato quando in realtà basta anche guardare un semplice grafico e quindi lo farà sicuramente se decide di vendere basta guardare che è in trend insomma la rialzista vi faccio vedere anche il grafico per esempio legato alla struttura della media. Allora considerate che la questione legata al proof of stake è stata anche creata qui in questa parte di pump poi c'è stato in effetti un po' un crash però vedete questa zona è un laterale quindi anche se fosse io mi aspetterei che molti aspetteranno per fare il gioco di parole di vedere un'inversione di trend anche da questo punto di vista quindi abbiamo un dato che ci indica che sostanzialmente a livello fondamentale non c'è secondo me il pericolo di una selling pressure poi c'è anche quest'altro appunto il blocco dello staking ragazzi era veramente attivo o no? perché molti e TH in stake potevano essere liquidati io stesso ho fatto dei test quando vi ho fatto il video dei tutorial e poi li ho liquidati perché li ho messi in stake su Binance poi ho preso i B e TH e li ho venduti sì è vero c'era una minusvalenza dello spread che Binance si prendeva una leggera minusvalenza ma non erano bloccati ragazzi ok? non erano bloccati e siccome erano i massimi storici ho fatto anche bene a venderli in quel caso ma ovviamente poi ricomprando facendo sapete io faccio molte operazioni però scherzi a parte il concetto era che erano liquidabili allora moltissimi di quelle che sono le e gli TH che sono stati messi in stake erano messi sostanzialmente su checks e su liquid stake quindi Lido eccetera no? liquid staking allora questa questione qui ci indica che il 60% ragazzi era completamente liquidabile con una leggera perdita quindi chi voleva in effetti chiudere le operazioni perché aveva paura di un sell, di un crash di Ethereum l'ha già fatto probabilmente non era necessario aspettare è vero c'era il 40% poi di quelli che invece non avevano, non hanno fatto questo però anche quel 40% ragazzi va compreso cioè sono sostanzialmente degli utenti, degli investitori su Ethereum con orizzonti temporali estremamente lunghi soprattutto quelli che hanno utilizzato le pool staking il 17% e in sostanza questi tipi di investitori hanno più una propensione ad essere holder piuttosto che investitori legati al breve quindi chi è nella pool per esempio sostanzialmente ha un atteggiamento da holder di lungo periodo poco attento alle scelzioni di breve quindi il fatto che gli diano la possibilità di togliere la stake poi va a venderli contro trend di mercato perché il trend in questo caso è di alzista insomma sono un po' di cose che non stanno bene l'una dentro l'altra poi c'è un altro fattore che invece riguarda proprio gli equilibri di mercato che bisogna andare a valutare rendere possibile la stake del DTH rende il mercato estremamente più flessibile e quindi più equilibrato quindi domanda e offerta si vanno a equilibrare in maniera estremamente più flessibile la libertà infatti di poter fare una stake aumenta la flessibilità del mercato e questo produce un maggiore equilibrio e questa cosa qui ragazzi all'interno anche della micro macroeconomia quando un mercato è più equilibrato sostanzialmente i prezzi non subiscono un danno ma ne beneficiano questo è un dato di fatto ragazzi ecco per questo esiste anche lo short selling nei mercati finanziari e negli ultimi 10-15 anni abbiamo visto praticamente solo bull run nonostante esistesse lo short selling prima non c'era magari no? allora queste cose qui dovete comprenderle quindi nel momento in cui io rendo libero flessibile il mercato di Ethereum dando la possibilità a tutti di fare stake and stake immediatamente quindi poter uscire rendo il mercato più flessibile e questo porta positività anche da quest'altro punto di vista c'è poi un'altra logica da andare a controllare i rendimenti dello stake di Ethereum non sono in linea con quello dei rendimenti dei bond risk allora questa però è una problematica che riguarda un po' tutto il settore delle cripto perché ragazzi bisognerebbe sempre andare a comprendere il bilanciamento tra quelli che sono i rendimenti che noi otteniamo mettendo in stake Ethereum e quelli che otteniamo mandando i USD per esempio su dei bond dei treasury americani e là praticamente non c'è un confronto che regge ragazzi perché vi faccio vedere la questione allora se andate a mettere degli ETH per esempio per un anno in stake parliamo delle pool quindi neanche i wallet neanche in checks eccetera si può ottenere il 4,2% annullizzato più o meno questi sono i rendimenti delle varie pool quindi l'IDO che fa la migliore 4,70 allora costantemente questo rendimento non è assolutamente in linea con il fatto che i treasury americani rendono praticamente di più di questi e sono teoricamente free risk allora concettualmente questo forse è un dato negativo quindi insomma andrebbe valutato però è anche marginale in quanto questo problema ce l'hanno tutte le cripto non solo Ethereum e soprattutto ce l'ha anche USD dove noi non riusciamo praticamente a depositare nel lato cripto dopo i vari crash della DeFi tutti i problemi che la DeFi ha avuto eccetera riusciamo a depositare dollari ottenendo lo stesso rendimento dell'hold market e questo ragazzi fa molto pensare bisognerebbe affrontare appunto questo argomento quindi questo è un dato negativo ed è secondo me l'unico dal punto di vista di analisi fondamentale che dovremmo andare a valutare appunto su Ethereum analisi fondamentale le conclusioni che quindi possiamo trarre da questi ragionamenti punto la pressione di vendita se anche ci sarà dopo il 12 di aprile sarà molto ridotta ragazzi adesso vi spiego però anche nel breve quindi poi adesso affrontiamo il lato di breve che è molto importante l'equilibrio domanda e offerta sarà migliorato dal concetto che io posso fare second stake nello stesso identico momento e questo aumenterà anche l'appetibilità dello stesso stake di Ethereum perché ragazzi la possibilità di renderlo flessibile probabilmente aumenta la domanda di Ethereum perché il 4,70 non è un rendimento molto alto è vero ma è molto alto per essere nel settore delle cripto è da avere Ethereum perché il competitor di Ethereum Bitcoin non dà praticamente rendimento di nessun tipo se lo deteniamo nei nostri wallet mentre ETH noi lo possiamo mettere a rendita questo crea uno squilibrio che si chiama squilibrio legato ai rendimenti di due cripto che è vero sono molto diverse però è anche vero che sono agli apici della classifica della market cap quindi un po' una marcia in più Ethereum da questo lo avrà quindi fare hold di Bitcoin non produce rendimento fare hold di ETH produce rendimento poi c'è la questione oscillazione di mercato crede o non crede nel progetto che va valutato però un punto lo dobbiamo tenere in considerazione quindi il fatto che io posso fare stake and stake e venderle index immediatamente i miei ETH dà una marcia in più ad Ethereum cioè rende Ethereum estremamente più flessibile e aumenta sicuramente la domanda nel medio e lungo periodo appunto vi sto dicendo di ETH fatto questo l'analisi lato grafico invece è medio breve e dobbiamo andare a farla comunque perché ragazzi questo non vuol dire che se noi abbiamo analizzato i dati di natura fondamentale che ci portano al concetto che Ethereum seguirà la sua strada a prescindere dallo Shanghai Effect perché non ci sarà lo Shanghai Effect in termini di medio e lungo periodo quello che invece ci potrebbe essere è l'effetto nel medio breve periodo da cosa dipende? l'incremento della volatilità intanto ci sono due grafici che dobbiamo andare a vedere il primo che è quello molto molto interessante è il rapporto Ethereum-Bitcoin perché quel grafico lì ci dice che c'è una fase di breve che potrebbe essere a danno di Ethereum e da un po' che vi martello con questo grafico ne abbiamo parlato anche nell'ultimo video ragazzi ma qui c'è una questione grafico Ethereum-BTC teoricamente l'analisi ciclica ci dice che manca una gambetta al ribasso che dovrebbe andare a chiudersi proprio a mese di aprile fino a mese di aprile i primi di maggio in questa zona qui quindi teoricamente una decina, due settimane di possibile fase di ribasso di Ethereum rispetto a Bitcoin Ethereum potrebbe essere in effetti più debole di Bitcoin nelle prossime due settimane forse questo grafico è il peggiore di tutti cioè è veramente l'unico dato negativo di tutti quelli che stiamo vedendo cioè proprio l'analisi di natura ciclica in pratica è come dire l'analisi ciclica contro tutto perché l'analisi fondamentale ci dice un'altra cosa l'analisi logica di logica economica legata agli arbitraggi sui rendimenti come vi ho detto prima ci dice un'altra cosa ma l'analisi grafica nel breve periodo quindi parliamo di 15 giorni due settimane breve periodo ci dice che in effetti la selling pressure su Ethereum potrebbe avvenire però attenzione ragazzi perché questo grafico non si sposa male con le logiche che vi ho detto prima perché? perché qui andremo poi teoricamente a chiudere un ciclo quadriennale di Ethereum Bitcoin il che significa che poi inizia un nuovo ciclo quadriennale di Ethereum verso Bitcoin perciò teoricamente nel medio lungo periodo tutto si confermerebbe anche da questo grafico però è ovvio che se io posso comprare qualcosa a sconto magari del 20-30% forse magari aspetto in ogni caso in questo caso stiamo ovviamente parlando di trading perché due settimane non è nemmeno un medio periodo è proprio bravissimo ragazzi quindi parliamo ovviamente di trading però questo è un grafico che io volevo farvi vedere ce n'è un altro però che andiamo a vedere che non dice la stessa cosa i rischi nel breve sono comunque a prescindere dall'analisi ciclica legati a quelle che è la volatilità pilotata per esempio proprio nelle giornate del 12 anche perché il 12 è una giornata molto rilevante perché c'è la questione legata all'uscita anche di dati macroeconomici importanti però c'è una questione legata al break di livelli chiave allora si potrebbe utilizzare la volatilità per andare a breccare dei livelli chiave di supporti di Ethereum e indurre praticamente un panic selling dovuto al principio riflessivo dei mercati cioè io brecco quelli che sono dei livelli di supporto faccio scattare i segnali di stop loss per esempio o trailing stop delle posizioni long faccio entrare le posizioni short selling faccio uscire i retail dalle posizioni per la paura e innesco la spirale di paura che creerà un flash crash questo potrebbe essere in effetti pilotato proprio sulla questione della news e secondo me un rischio del genere un rischio manipolazione un rischio un pilotato potrebbe esserci ragazzi però c'è un ma anche in questo c'è un ma molti di voi magari ora sorridono i rischi nel breve ci dicono questa attività di pilotaggio diciamo così manipolazione può essere fatta anche a rialzo perché è irrilevante la cosa ragazzi perché se noi andiamo a pilotare quello che so che è un meccanismo di mercato e siccome questa notizia può essere presa bene o male in entrambe le direzioni perché abbiamo visto dati fondamentali positivi e comunque resta la paura quindi la negatività del fatto che si può speculare sulla paura se io vado a fare a manipolare Tim e fargli breccare dei livelli di resistenza innesco una spirale rialzista quindi esattamente siamo nel punto di equilibrio guardate un po' dove l'hanno lasciato secondo me questo è interessante perché nel breve si può andare a realizzare diciamo ci possono andare a realizzare delle operazioni di trading anche con profitto per chi di voi magari vuole monitorare la situazione vi faccio vedere quelle che sono in sostanza dei livelli dei livelli chiave sul quale ragionare perché ci sono dei livelli chiave allora la volatilità dovrebbe esserci 12 sia legata alla questione di Etinum POS quindi della questione proprio intrinseca sia per questione di volatilità se si innesca un po' la miccia il mercato si muoverà quindi che cosa potrebbe succedere ragazzi vi faccio vedere un grafico che io sono molto cioè che guardo molto molto spesso Etinum è su un livello di resistenza importantissimo ragazzi il mercato il quale in pratica non ha nessun livello di resistenza ulteriore fino a un più 30% in pratica oggettivamente poi ci sono questi livelli che vedete qui più 12 più 15 ma insomma si spara un più 15-20% con tranquillità solo se chiude una candela al di sopra di questo livello qui qual è il livello da tenere a mente i 2000 dollari allora se noi abbiamo il livello da 2000 dollari magari lo buttiamo dentro qui se noi vediamo che in pratica ETH va a breccare nella prossima settimana e questo livello incomincia a breccare scattano tutti gli stop degli short eccetera e facciamo un boom di 15 punti nell'arco di due giorni quindi vedete che comunque il principio della volatilità funziona da ambo le parti quindi in sostanza adesso poi vi dico come si opera se siete holder o trading questo vale solo per i trader che possono speculare su una cosa del genere andando a forzare la mano al livello invece di breve periodo una pressure al di sotto di 16 45 circa sarebbe negativa quindi questi sono i due livelli che dovete tenere monitorati per la prossima settimana i 2000 dollari e i 1650 dollari ovviamente molto basso questo livello ragazzi perciò significa che se andiamo a creare un candelone rosso di questo tipo iniziamo a preoccuparci perché potrebbe innescarsi appunto quella 15 giorni due settimane di ribasto che l'analisi ciclica ci dice che appunto potrebbero potrebbero avvenire io mi preparerò in entrambi i casi holder di lungo periodo teoricamente non dovete far nulla a meno che il break appunto dei 1600 tendenzialmente non vi spostigli i vostri equilibri di asset allocation eccetera considerate il fatto che da lì poi il mercato può tranquillamente prendere un trend di passista insomma eccetera i mercati fanno sempre quello che vogliono quello però è la vostra atteggiamento la strategia da holder insomma prevede anche subire le volatilità del mercato trader o holder intelligenti come li ho chiamati nel mio modulo sull'investimento cripto allora in questo caso potete speculare proprio sulla volatilità avendo noi quelli che sono questi livelli possiamo decidere di speculare su queste oscillazioni e sul fatto che se brecca veramente i 2000 in un contesto del genere vi fa il più 20% nel mercato di pochi giorni perché è manipolato magari da una serie di cose poi magari chiudete l'operazione è un'operazione di trading interessante che si potrebbe fare comunque vi lascio anche il link di BitGet che utilizzo per fare queste cose in descrizione ragazzi con lo sconto 15% a vita delle commissioni detto questo c'è l'ultima chicca del video di oggi ed è il mio sondaggio fatto nelle scorse giornate sia su Telegram che su Twitter in tutti e due i casi abbiamo 40% dump o 40% stabile e 40% dump o 40% stabile il 20% pensa che fa il pump l'80% che o non fa nulla o dump ragazzi allora è interessante andare a vedere questa cosa perché io sono convinto che in questo istante alla fine del video molti di voi che hanno visto questo sondaggio stanno dicendo allora sale questo per farvi capire come funziona la finanza comportamentale questo per farvi capire come molto spesso questi dati ci auto manipoliamo da soli proprio con queste attività diciamo speculative mentali va bene detto questo fatevi sapere comunque la vostra opinione su Ethereum e cosa succederà il 12 intanto io vi auguro una buona Pasqua a tutti quanti noi ci vediamo nel prossimo video che probabilmente sarà il martedì perché a Pasquetta non si muove niente anche se non so magari se riesco a registrarvi qualcosa della registro lo stesso ciao ragazzi